Un secondo però veramente devo andare, il concetto è molto semplice, noi riteniamo che questo Parlamento è l'unica cosa che farà, proverà a fare una legge elettorale appunto ancora di più a sfavore del Movimento 5 Stelle e proverà in qualche modo a stoccolare il Grazie mille, non sta bene mai niente, è vero però è così, scusate